Gram Festival all'ex caserma Piave occupata, agli sgoccioli il braccio di ferro tra collettivo ZTL e comune di Treviso. Se lo sgombero forzato ci sarà, dovrà avvenire prima di giovedì sera, quando la manifestazione inizierà. Invia Monterumici comitato per la progettazione partecipata del complesso. Riunito per dire che il percorso deve andare avanti, il Gram non deve costituire un ostacolo insormontabile. La organizzazione di eventi sperimentali temporanei all'interno dello spazio era già contemplata all'interno dei documenti stilati il 21 febbraio con il lost e all'interno stesso della convenzione non firmata e non sottoscritta tra UOV e comune di Treviso. Siamo qui per cercare di tenere il timone della barca dritta, cercare di smorzare tutte quelle che sono le rivalità in campo. Ma le tensioni ci sono e come ZTL tenta un gesto di conciliazione suggerendo di trasferire palco, tavoli e gazebo nel parcheggio esterno. Noi adesso stiamo discutendo e stiamo valutando la possibilità di spostare il festival nel parcheggio con tutti i problemi connessi. E questo è un tentativo, comunque un ennesimo tentativo di distensione anche da parte del collettivo ZTL. Ipotesi che Cassugana non tiene neanche in considerazione anche perché l'area è di Ater e Fondazione Cassamarca. Come possono spostarlo fuori? Si danno una spinta più forte e possono portarlo anche in Dogana magari. Visto che possono spostarlo, si può spostare anche in Dogana. Basta la buona volontà. L'ex Dogana dove già si tiene l'Home Festival o tornare a Silea. Per il comune soluzioni più che dignitose per la quattro giorni di musica e cultura. Da ZTL non ne vogliono sapere, pronti allo strappo, anche se il gruppo di associazioni che lavora per il recupero dell'ex caserma non è dello stesso avviso. Resta da vedere se andranno a vuoto anche gli ultimi tentativi di mediazione.